ma buongiorno recuperatrici e recuperatori di film dal passato mariti e mogli ed è un voody che sta vivendo una grossa crisi personale nella sua vera vita è l'ultimo film che gira con l'attuale moglie mia farro che è stata per dieci anni la protagonista femminile di tutti i suoi film dall 80 al 1990 la protagonista appunto è sempre lei la moglie di voody ma qui sono sono in piena crisi nella loro vera vita e questa crisi praticamente si si riflette in questo in questo film woody allen prende a pieni mani qualcosa della sua vera esperienza di vita e ce la riporta a noi attraverso lo specchio deformante del cinema di cosa parla questo film fotografato ancora una volta da carlo di palma che voody prende perché è stato il direttore della fotografia di michelangelo antonioni questo film parla di di due coppie i mariti e mogli sono loro una copia formata da voody allen e mia farro e la loro coppia di amici interpretati da sydney pollack che per esempio recita anche reciterà anche molti anni dopo in ice word shot di kubrick e sua moglie interpretata da judy davis un'attrice che collabora poche volte con allen ma sempre molto bene come sempre con questi personaggi femminili nevroticissimi quindi all'inizio all'inizio appunto la coppia allen e farro deve andare a fare una semplice cena con i loro migliori amici pollack e davis però la coppia pollack e davis annuncia a loro che vogliono vogliono separarsi ecco che questa notizia sconvolgerà mia farro la manderà letteralmente fuori di testa e e una volta che si sono separati appunto pollack e la davis e e mia farro farà ogni tentativo per cercare di fare avvicinare la davis a un suo collega di lavoro un collega della farro interpretato da liam nison ma pian piano si capirà che questa separazione della coppia pollack davis ha tanto sconvolto lei la farro perché in realtà in senso psicanalitico è lei che vorrebbe separarsi da allen però non ha il coraggio di ammetterlo a se stessa e quindi neanche con gli altri ecco parallelamente a tutto questo quindi quindi sydney pollack interpreta intraprende una relazione con la sua insegnante di areobica una più giovane e parallelamentissimo ancora tutto questo tutta questa vicenda qui wendy allen inizia a frequentare in senso platonico soltanto sul piano del dialogo lui che è professore di letteratura inizia a frequentare una sua alunna interpretata da juliette binoche nel momento in cui era una stella in ascesa e la ricordiamo anche quello lì più o meno nel periodo in cui è anche protagonista femminile di assassini nati di oliver stone quindi wendy scrittore e insegnante di letteratura che frequenta la sua appunto la sua alunna juliette binoche e qui abbiamo il ritorno di un archetipo che mi sono dimenticato di di inserire nel discorso che facevo pochi giorni fa quando parlavo di un altro film di wendy allen anna e le sue sorelle quando dicevo che tante volte nel film di wendy allen abbiamo questo ritorno di questo archetipo dove l'uomo è maturo e invece la donna è molto più giovane di lui qui abbiamo la riproposizione doppia di questo archetipo quindi pollack e la sua nuova fiamma l'insegnante di areobica e wendy che che frequenta e frequenta la sua alunna juliette binoche le parti dove wendy e la binoche parlano di letteratura camminando nei parchi new yorkesi in questi paesaggi mega autunnali sono una delle cose che preferisco sia per i discorsi che fanno sulla letteratura e la poesia in generale un po sia per l'atmosfera ecco c'è da dire che c'è anche una cosa molto interessante di cui fa wendy una scelta a livello fotografico ricordiamo prima di ricordare vi dico che questo è il film diciamo se vogliamo volutamente se vogliamo volutamente più sgraziato in senso filmico wendy allen sceglie qui la camera ma la camera a mano per riprese e quindi sono riprese tremolanti traballanti a volte ci sono ci sono le mitiche sventagliate cioè cioè panoramiche velocissime da un angolo all'altro della stanza per cogliere battute dei personaggi o eventuali spostamenti di questi ecco tutto questo tremolio sembra un un accordo visivo con tutto il senso di subbuglio interiore che abbiamo nei personaggi cioè la mia impressione è che wendy che stava vivendo una situazione di grossa instabilità emotiva per la sua vera vita traduce tutto questo con una fotografia mai appariscente ma appunto nevrotica traballante instabile a tutta questa instabilità si contrappongono degli altri punti dove i personaggi si intende ad esperienza conclusa vengono intervistati quindi guardano guardano in camera e raccontano il loro punto di vista su queste dinamiche che sono accadute raccontandoci anche appunto le loro sensazioni le loro riflessioni e questo è molto bello perché ci dà veramente un senso di spessore e emerge ancora di più l'umanità di questi personaggi e il loro punto di vista su queste dinamiche che abbiamo visto durante tutto quanto il film ecco ecco verso la verso la fine ecco ora ora non vi vado a svelare come si risolvono le storie delle varie coppie vi dico che è uno dei film migliori di Woody Allen uno tra quelli scritti meglio qui Woody rinuncia un po ai toni della commedia io credo che sia sia troppo in crisi nella sua vera vita per poter voler scherzare però però risolta la questione con Mia Farrow poi arriveranno di nuovo commedie brillantissime ho parlato che non è molto della della fenomenale commedia pallottole su Broadway e poi rivela la idea dell'amore comunque bellissimi film comici per tutti quanti gli anni 90 e ancora gli anni 2000 verso la fine verso la fine c'è un dialogo che comunque apprezzo molto dove dove Woody Allen e Mia Farrow parlano del concetto di crescita e Woody Allen dice una delle sue esagerazioni esagerazioni scusate e appunto le dice le dice cambiare è la morte e invece lei gli risponde gli dice dice ma se non cambi non cresci ti è cartocci e basta ecco trovo sempre quel scambio di battute molto efficace e che sintetizza i due punti di vista estremi due poli opposti di Allen e Mia Farrow e appunto quindi quindi la grande la grande fotografia di di Carlo di Palma che qui gioca appunto gioca è come come una Ferrari portata ai tre chilometri all'ora così ha già fatto bellissime fotografie per Allen e le farà ancora dopo ok qui però non è il momento di sfolgolare non è il momento di di strabiliare è il momento di raccontare un dramma umano dell'essere umano contemporaneo che cerca la cerca la stabilità nel rapporto di coppia cerca la serenità cerca un modo di non invecchiare un modo di continuare a sentirsi vivo un modo di di punto continuare a vivere serpeggiando cercando di di possibilmente non ferire troppo gli altri nel caso di Allen che quasi si muove con con discrezione e in contraposizione per esempio al suo amico Sidney Pollack che non ha paura di ferire di ferire la sua sua moglie pur di inseguire il suo ideale di amore estemporaneo una grandissima riflessione appunto ancora una volta del nostro buon vecchio Woody su il mistero dell'animo umano mariti e mogli è un altro capolavoro forse forse non lo consiglierei se siete a digiuno di Allen se non avete visto nulla di Allen non ve lo consiglierei vi consiglio di iniziare da qualcos'altro magari dalla commedia pallottole su Broadway o magari non so da Manhattan o io e Annie però se invece ve la sentite iniziate pure da questo è un bellissimo film giù nell'info box scotolina delle informazioni vi lascio qualche link a qualche altro film di Woody che ho recensito per il momento è tutto anche se la luce del giorno è stata delicatissima io vi ringrazio e vi auguro una bella buonanotte ciccette buonanotte ciccetti a presto grazie per essere stati con me anche oggi